Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo messo video. Oggi sono qua con il video spiegazione di quello che è successo al mio povero CRF e per chi non sa di cosa sto parlando vi lascio qua il link in alto a destra. E inoltre ragazzi oggi sono qua per rispondere appunto a quello che è successo. Siccome purtroppo e per fortuna ci sono stati un sacco di commenti negativi sotto a questo video perché ho fatto una cosa che secondo alcuni non andava bene, secondo altri invece sì. Quindi vi andrò a dire oggi una volta per tutto quello che è successo, quelli che sono stati i danni e cosa potevo evitare magari non facendo quella cosa. E soprattutto il vero motivo per il quale è capitato questo evento. Prima di continuare con il video però voglio ricordarvi di iscrivervi al canale che per me è davvero importantissimo siccome in tantissimi non siete iscritti più del 70% di voi e ovviamente come sapete è gratuito, non vi costa nulla e quindi vi resta un grandissimo piacere. Detto questo adesso vi andrò a far vedere un piccolo timelapse dello smontaggio della moto che tra l'altro sono andato a effettuare il giorno stesso dell'accaduto. E inoltre ragazzi quindi adesso vi andrò a far vedere questa clip e dopo andremo a vedere il motivo per il quale è successo purtroppo. E inoltre ragazzi! Ok ragazzi quindi adesso che avete visto questo piccolo clip andiamo subito a vedere il motivo vero e proprio per il quale è successo questo disastro. Dopo il facilmente completo del motore ci sono stati due piccoli improvvisti che non sono tanto piccoli siccome abbiamo fatto migliaia di euro di danni però nessun problema ragazzi cioè si sa che sono molto delicate, si sa che possono succedere queste cose bisogna tenerlo a conto. Certo non dopo 30 ore di motore però le possibilità ci sono in ogni caso. E ragazzi questi due motivi ragazzi sono inerenti tutti e due all'olio. Adesso vi andrò a far vedere una piccola clip dove il motore purtroppo sta girando senza olio perché si era andato a svitare il tappo di rabbocco dell'olio quindi andando a svitarsi l'olio usciva da sopra e il motore ha girato senza. Quindi lì c'è stato il danneggiamento sia del cilindro e pistone che soprattutto della biella. Ok ragazzi quindi come avete visto la clip il mio cugino in questo caso stava guidando la mia moto la stavo facendo provare e dopo esserci fermati ragazzi ho visto che mancava purtroppo il tappo e l'olio e fortunatamente direi la stavo usando lui non io quindi ho potuto vedere la moto all'esterno e mi sono accorto appunto di questa cosa. Quindi ragazzi il danno principale è stato lì il motore ha girato senza olio per chissà quanto perché non so da quanto effettivamente mancasse l'olio. Il secondo motivo invece di questa rottura ragazzi è stato poco dopo il facimento del motore perché dopo circa una decina di ore mi sono accorto il problema perché inizialmente non faceva nulla e dopo un po' di tempo utilizzo mi hanno dato questo problema. La moto non andava per niente bene quindi ho dovuto smontarla tutta per capire quale fosse il problema e infine ragazzi è risultato che fosse un loro ovvero l'eguarnizione della testa e del cilindro del motore e questi due piccoli componenti hanno fatto sì che il liquido di raffreddamento entrasse all'interno del motore dove ovviamente non doveva starci e in poche parole avevo l'acqua e l'olio insieme quindi capite bene ragazzi che non lubrifica per niente. Quindi come avete potuto capire il motivo di questo accaduto è stata la lubrificazione che ha comportato sì di rompere la gabbia bulli all'interno dell'albero motore e oltre all'albero motore ci sono stati ovviamente altri componenti che si sono andati a bovinare tra cui pistone, cilindro e cuscinetti di banco. Il resto ragazzi è praticamente tutto intatto e non servirebbe neanche cambiarli. Siccome ci sono stati tanti commenti negativi nel video che dicevano e facendo così peggiori le cose, rompire anche il resto, io nonostante sono andato a rompere soltanto tre cose, cambio tutto il motore. E se posso fare un paragone ragazzi, se vi cagate addosso, voi cosa fate? Cambiate solo le mutande o anche i pantaloni. Dopo fate voi ragazzi. Quindi ragazzi, battuta a parte, per questo video può anche essere giunto alla fine. Vi ringrazio tutti quelli che hanno commentato il tuo scorso video, sia in modo positivo che in modo negativo. Come sapete, ha certo sempre le critiche, però trovate la testolina. E ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale in caso non l'aveste ancora fatto. Alle mie spalle, come potete vedere, sono le carte della moto che sto pian piano sistemando. E vi dico subito che non farò nessun video sullo smontaggio e rimontaggio, oltre a questo, del qualche piccola clip che vi ho messo, perché adesso già come andrebbe a finire. E niente ragazzi, non mi manca altro che ringraziarvi tantissimo della visione, del supporto che mi date, non ogni giorno, ma ogni video che sia. E niente ragazzi, grazie tantissimo ancora una volta e noi ci vediamo al prossimo video.